Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Devils a Tornei. Ragazzi, vi ricordate questo gioco dove dobbiamo costruire il nostro appartamento vincendo casi in modo illegale? Beh, se non ve lo ricordate vivete in un altro mondo. Ragazzi, è un gioco bellissimo, mi piace portarlo sul canale, ci ho speso per questo gioco e so che i soldi spesi non li riguadagnerò. L'italiano è andato a fare un giro, non li riguadagnerò su YouTube, però è un gioco che mi piace, piace a voi perché il precedente ha fatto abbastanza visual, quindi io lo continuo. Allora ragazzi, vediamo i casi che ci sono oggi. Vorrei fare questo qua di Mitch Moore. Mitch è stato accusato di tenere un puma in casa. Lui afferma che Vibrissa non è un puma, ma solo un gatto un po' più grande della media. Del tutto normale, no signori? Cioè, la nostra carissima Margaret Jones, io andrei in aula. E come va a finire questo caso? Tua madre non te l'ha spiegato che non puoi tenere un puma in casa? I puma devono vivere nel loro habitat, non nell'appartamento del cliente hippie. Mia madre mi ha spiegato tante cose, per esempio mi ha spiegato che non devo parlare con vecchi signori che non conosco. E poi cos'hai contro gli hippie? Non ho niente contro gli hippie. Anche io ero un hippie. Troppi hippie, dai. No, per questo che hai le pupille dilatate. O è perché sei catra... No, i miei occhi sanno questo aspetto quando inaugurano male a una persona. Oh. Troppi hippie oggi, eh. Allora, abbiamo la nostra Margaret Jones, che se vi ricordate i suoi danni... Annaccia, perché si devono... Allora, i suoi danni sono pari alla sua credibilità. Quindi togliendoti gli danni gli dobbiamo anche credibilità. Poi c'è un testimone, il consulente che aggiunge due danni alle prove. Questo qua sarà una bella gatta da pelare. Io do assolutamente l'inno al consulente. Usiamo un potenziamento sbloccato nello scorso episodio. Potenzia ego. E tiriamo un bel controinterroga sul consulente. Che non basta per stenderlo. Allora, no, raga. Il consulente lo dobbiamo togliere subito. Se no, la prova mi leva 7. Eh, la vedo nera, raga. Questa qui potremmo perderla. Allora, intanto distruggiamo la prova. Ok. Ah, raga, ho perso, secondo me. Mi leva 6 lui e 3, ma vaffancina, vacci. Vaffancina. Il tuo cliente è stato giudicato colpivore. Va bene, noi riproviamo, no? Vai, Mitch Moore. Stavolta ti facciamo uscire dal carcere. Allora, fatemi pensare una strategia. Ok, raga, ho pensato che ci basta eliminare la prova. Analisi di prego, non fare 0. Ovviamente fa 0. Analisi di prego, fai 1. Ok. E la prova si è andata. Di conseguenza, anche il consulente. Allora, dobbiamo toglierci di mezzo a Margaret. Quindi io faccio il potenzia ego. E controinterroga. 7. Margaret se ne va. Prenderò 1 di danno dal testimone. Però se faccio Amalia, ecco, mi leva 1, giusto? E vaffancina, adesso hai perso, in teoria. Se faccio così. Ciao, ciao. E anche il testimone se ne va. Abbiamo vinto il caso. Andavo solo pensato un po' di più. Puma ruggisce. Avvocato Arringa. Avvocato, grande vittoria per tutti i felini. Yeah. Il tuo cliente è molto soddisfatto e per questo ti ha fatto un regalo. Willy! Cosa posso scegliere? Allora, raga, potete vedere che abbiamo. Bastone dorato. Accresce lo stato del tuo caso di 1. Dove in poi inizierai un caso con 9 invece che 8 buono. Cappello magnaccio. Aumenta l'effetto della tua abilità. Potenzia ego. E aggiunge 4 danni al prossimo attacco invece di 3. Oppure scarpe italiane. Aumenta il materialismo di 1. Scarpe italiane di tutta la vita. E abbiamo aumentato il livello di materialismo. Ora, in teoria, possiamo comprare qualcosa. Vediamo un po'. E vorrei una cucina... Mi sta bene, almeno. No, eh? 1800. Andiamo al prossimo caso. Abbiamo... Paul Perez. Io vorrei fare Debbie Young. Debbie accusa di percosse a 10 marinai in un bar. Lei si difende affermando nonostante il suo fisico possente e l'amore per i superalcolici di non essere una persona violenta. Andiamo in aula e la difendiamo, no? Ok, vediamo cosa riusciamo a fare. Ah, i testimoni sono un attimino messi male, eh? Secondo me hanno un attimino ragione, ma non fa niente. Allora, in teoria, se noi leviamo i testimoni, Mike Spencer non fa una pippa contro di noi, no? Teoricamente. Quindi io... eliminerei testimone 1. E magari... mi prendo un più 5 al mio stato del caso. e Ammalio è il testimone che mi fa più male. Di 1. Fagli un altro Ammalia. Ok, gli leva 2. Ora, in teoria, dovrei riuscire a sopravvivere. 5. The fuck? Ah, ok, sono 4, va bene. Ora posso fare... così? Ti prego, eliminalo, vaffancina. Eliminalo. Ok. Eh, ho perso. A meno che non faccio così. Ti prego, esci 2. Sopravvivo? Ho l'ultimo punto. Se esce 2... Ok, raga, sopravvivo perché sono stato fortunatissimo, con uno di vita. Adesso lo devo soltanto eliminare a sto figlio di una persona molto gentile. Vaffancuore. Mike Spencer se ne va? Sti cazzi. Ristalbar, colpevole, vince per KO. Questo è un colpo basso. GG. Allora, adesso posso comprare una cucina decente, no? Certo, decente. Non c'è nulla di più raffinato di una cucina firmata. In alcune culture, verla significa essere arrivati finalmente all'età adulta. Beh, Laguna Blu l'avrei ripresa comunque perché il senatore mi fa poco schifo. Cioè, sinceramente, raga. Prendiamo Laguna Blu. Ok, ora ci manca il tavolino e il cosetto qua, in teoria. E abbiamo finito la casa. Ora, torniamo indietro. Prendiamoci il prossimo lavoro. Io offrirei a Harry Stone. Nel suo spettacolo di illusionismo, Harry fa scomparire gli averi del pubblico. Si è poi scoperta la sua totale incapacità di far ricomparire gli oggetti scomparsi. Se non avete capito, lui ti fa sparire per magia il portafogli e poi non lo sa far tornare. Va bene, abbiamo Jack Barbon. Bourbon, come si chiama. Allora, signori belli, stavo rimirando un po'. Ci sono quattro testimoni. Quattro. Più Jack Barbon che fa abbastanza danni. Quindi, è difficile questa, eh. Allora, ti prego, non fare zero. Ma perché faccio sempre zero? Ok. Poi faccio così. Va bene. Poi mi prendo un più cinque allo stato del caso. E dovrei riuscire a passare questo turno. Ok. Ok. E ok, perfetto. Ora, eliminiamo a Barbon. Ho detto eliminiamo Barbon. E un solo puntuazione. Posso fare un'ammalia. E farmi fare meno danno da questa. Va bene. Ci siamo, dai, ci siamo, ci siamo. Mi leva zero, perfetto. Perché ho fatto l'ammalia. In teoria adesso ho vinto. Ti prego, leva gli quattro. Ui, giusto, giusto. Cosa cazzo ho detto? Giusto, giusto. E lei gli leva quattro. Lo faccio così. E leva... Perché non sono mai fortunato. Allora. Vai, vattene. Per favore. Brava. Era pure l'ultimo round per il bonus. Prestazione magica di un giovane avvocato. Testimone. L'intera corta sembrava ipnotizzata. Già. Saperché. Allora, ragazzi. Facciamo un altro caso. Magari. Cioè. Oh, sono rimasti solo due. Paul Perez. Che dite? Quale vogliamo fare? Saul Miller. Dai, mi ispira fiducia. Codesto uomo. Saul voleva semplicemente far crescere il livello culturale della sua comunità vendendo libri a prezzi scontati. L'unico problema è che i libri provengono dalla biblioteca di quartiere. Cioè, li prende gratis i libri dalla biblioteca e li vende facendo pagare. Questo tizio è un genio. Dategli un Nobel. Poi abbiamo Roger Mansell che si occuperà del caso. Noi andiamo in aula. Beh, raga. Non dovrebbe essere troppo difficile. Teoricamente. Allora, dobbiamo aggiungere credibilità e dobbiamo levare i testimoni subito. Quindi facciamo così. Faccio potenzia ego. Posso fare un interroga? Ah, solo interroga. Volevo fare il controinterroga. Vabbè. I chi le va giusto giusto sei? Abbiamo vinto. Beh, abbastanza facile. Dai. Vittoria per giovane avvocato. Accusa. È un bravo ragazzo. Va bene. Raga. Visto che è durato davvero una mezza sega. Io vi proporrei di farne un altro. Cioè, voi che dite? Abbiamo Dave Lee. Questo uomo bellissimo. Sempre con Mansell? No. Facciamo con Margaret Jones e Paul Perez. Paul Pet. Che battuta di merda. Allora. Paul ha venduto un esclusivo elisir della giovinezza che sembra avere le stesse caratteristiche organolettiche di una limonata. Lui afferma che in realtà si tratta solo di una stradissima coincidenza. Ah, quindi ha venduto un elisir della bellezza. Immagino a un prezzo altissimo. E invece limonata. Va bene. Va bene. Va bene. Raga. Io adesso vi ho saltato il dialogo. Ma Margaret ha detto che l'elisir è stato venduto a lei. Si è presa un coso per la bellezza questa. Vabbè. Il consulente ha una faccia proprio sexy. Non c'è da baciare. Allora. Dobbiamo togliere i due consulenti. Proprio subito i due consulenti. Consulenti, giustamente. E Margaret. Cioè, tutta la vita. Quindi mi devo rimanere tre. Per il vocione. In caso. Ma intanto facciamo un potenziale ego. Per toglierci dalla fava. Questo consulente. Che è quello che fa più danni. Mi rimangono quattro. Se io mi faccio il vocione. In teoria riesco a vincerla. Mi faccio un bel ammalia. E riduco i danni di Jones. Possiamo vincere. Cinque. E tre potenzialmente. Ecco tre. Ti pareva. Ora. Facciamo. Allora. Intanto dobbiamo togliere il consulente. Quindi facciamo un attimo. Beh. Basta distruggere la prova. In teoria. Consulente se ne va. Distruggi sto prodotto. Ora ho tre punti. E. Ok. Devo fargli più di due di danno. Con questo interroga. Giusto giusto. Giusto giusto due. No. Eh. L'abbiamo persa. Ragazzi. Ho tolto giusto giusto due. Riproviamo. Ok. Ragazzi. Non so come. Siamo allo stesso punto di prima. Ma stavolta dobbiamo vincere. Faccio subito un potente ego. E vinciamo giusto giusto per il sette. Ragà. Una fortuna assurda. I datori di Elisir beve da coppa della vittoria. Accusa. Sono molto scosso. Abbiamo preso pure il bonus. Ragazzi. Il video si conclude qua. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.